Comunicare in pubblico E' la Dale Carnegie Quindi il meglio esistente in Italia E al mondo sulla comunicazione efficace Ai fini persuasivi a un pubblico Quindi devo dire L'esperimento è andato così bene Che abbiamo deciso di replicarlo Per cui se sei un professionista Un imprenditore Una persona che si trova ogni giorno A dover comunicare a delle persone Le proprie idee, i propri servizi I propri prodotti, i propri progetti Volendo ovviamente ottenere un risultato Finale, persuasivo Beh, credo non possa esserci in questo momento In Italia opportunità migliore per imparare Non soltanto un corso di public speaking Ma un vero e proprio percorso Che prende una persona Gli dà tutte le basi Gli le fa implementare Fino a farla diventare veramente Un comunicatore incredibilmente efficace Io insieme a Sergio Borra Il master trainer della Dale Carnegie in Italia Saremo i due docenti Affiancati da tutto il nostro team Di coach e di formatori Quindi probabilmente è il meglio Che tu possa avere in questo momento A livello nazionale Per migliorare questi aspetti Saranno sei giorni intensi Di pratica, pratica, pratica Non ci sarà molta teoria Ma ci sarà possibilità Di fare moltissime esercitazioni Che metteranno tutti coloro Che hanno esigenze Di motivare le persone Di riuscire a comunicare Per assodere e convincere Metterà, dicevo, tutti Nella condizione di poter Assolutamente migliorare come oratore Il corso è davvero fantastico Perché devo dire che ho fatto Diversi corsi di crescita personale Ma questo mi dà la possibilità Di mettere veramente in pratica Quella che è la comunicazione Soprattutto con un pubblico Il valore aggiunto che mi sta dando Questo corso di public speaking È la concretezza Io ho fatto anche altri corsi Di public speaking Ma questo è estremamente concreto Estremamente diretto Estremamente centrato Ed estremamente pratico Il corso è andato benissimo Anche perché mi sono reso conto Di tutti quelli che erano gli errori Che facevo durante la comunicazione In pubblico E ho già avuto modo Di metterli in atto E ho già visto Gli ottimi risultati L'avevo già fatto Quattro anni fa con Roberto Mi è piaciuto Mi è piaciuto veramente tanto Che ho voluto portare I miei collaboratori Ogni giorno quasi faccio Delle presentazioni E quindi il fatto di avere Una struttura Il fatto di avere Una formula magica Il fatto di avere Effettivamente Tante cose diverse Da mettere Nella cassetta Degli attrezzi Per me è fondamentale Poter essere a contatto Per sei giorni Con un maestro Del public speaking E conoscere Pezzettino per pezzettino Tutti i perché I trucchi Tutti gli atteggiamenti Ogni mossa Come viene strutturata Come viene creata Per dare il miglior impatto Su una sala Credo che non abbia prezzo Mi sta aiutando Pian pianino A vincere questa timidezza Soprattutto l'impatto iniziale Che è il tratto più emotivo Che c'è Sicuramente in me Quando si deve affrontare Una riunione O comunque Qualsiasi tipo di rapporto Sicuramente Ho una serie di nozioni Che sono tantissime Cioè quelle che ho ricevuto Che devo mettere Tutte lì E farle funzionare Perché poi devono essere Cose naturali Per essere veramente efficaci Di avere più motivazione Più voglia di fare Non vedo l'ora Di ritornare in azienda E di portare Il risultato Di quello che ho appreso Farò altri Perché ne farò altri Perché Ogni volta Quando torno in azienda Mi rendo conto Che porto Non solo delle conoscenze Ma dei risultati Che poi si concretizzano Chiaramente In più fatturato In più risultati Maggiore soddisfazione Maggiore coinvolgimento Dei collaboratori Devo dire che I risultati sono stati Stupefacenti Perché sono riuscito a gestire Dei contrasti In modo ottimale Cosa che non avrei mai pensato Mi piace moltissimo Sicuramente Ho preso tanti spunti Di idee E di punti di riflessione Che tutti noi sappiamo Ma che da domani Sicuramente Rielaborerò Con molta più decisione Consiglierei A tutti Paradossalmente Dai bambini Che vogliono Ottenere la bicicletta Dal genitore All'anziano Che vuole comunicare All'nipote Non necessariamente In ambito di lavoro Anzi Io questo corso Davvero mi sento Di consigliarlo A tutti Colleghi Imprenditori Manager Tutti coloro Che hanno voglia Di diventare davvero Dei comunicatori efficaci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti